Tutto nella vostra età, quando magari siamo un fidanzatino che è estremamente geloso. Attenzione ai segnali d'allarme, dice la poliziotta in piazza Salotto a Pescara. Le ragazze delle scuole ascoltano attente, annuiscono. Pur sapere che c'è un numero da chiamare è molto rassicurante. La giornata contro la violenza sulle donne è una buona occasione per rompere il silenzio e imparare a difendersi, a chiedere aiuto. Dobbiamo essere vicini a chi è in difficoltà, ma soprattutto dobbiamo fare un passo avanti tutti dal punto di vista culturale. Fondamentale riconoscere i comportamenti pericolosi travestiti da attenzioni. La gelosia, appunto, prima. Già quando un ragazzo ti vieta di uscire con le tue amiche, secondo me è il campanello d'allarme principale per noi ragazze. Succede? Sì, succede moltissimo oramai al tempo d'oggi. Pure se un ragazzo ti dice quello non lo puoi mettere, quello neanche, anche quello è un grandissimo campanello. In social magari vuoi mettere una foto che a te piace, che magari dove tu ti senti bella, però viene appunto proprio privata di questa libertà. Ci sono ragazzi che hanno, soprattutto ragazze, che hanno chiesto di potersi confrontare con i nostri psicologi. Le ragazze di oggi hanno il coraggio di raccontare storie che una volta restavano nascoste. Una persona della mia famiglia veniva attaccata, umiliata. Dopo anni comunque è stato detto.